Ha visto uno sconosciuto all'interno dello spogliatoio riservato al personale del distretto socio-sanitario di Montevarchi. Tra le mani aveva un portafoglio da donna. Così l'infermiera ha capito subito di essersi trovata di fronte ad un ladro che però a quel punto si è dato alla fuga. Il malvivente, pregiudicato di origini campane ma residente da anni in Valdarno, è stato comunque rintracciato e denunciato dai carabinieri. A lanciare l'allarme è stata proprio l'infermiera. I militari arrivati sul posto hanno raccolto la sua testimonianza e visionato le immagini delle telecamere del circuito di videosorveglianza dalle quali è stato subito riconosciuto il malvivente. I carabinieri quindi si sono messi sulle sue tracce e lo hanno rintracciato nel giro di poche ore alla stazione di Montevarchi. Sebbene non fosse più in possesso del borsello è stato identificato e i militari hanno potuto constatare che ancora indossava degli indumenti compatibili con quelli del malvivente che aveva tentato il colpo al distretto socio-sanitario. L'uomo è stato così denunciato per tentato furto aggravato.